Buonasera, grazie a tutti, grazie dell'accoglienza. E' stato complicato arrivare qui a Brescia oggi da Milano, però ce l'ho fatta. Che bello, io devo dire che bello perché vedere questa sala gremita per un'iniziativa in cui si parla di scienza, di informazione scientifica, di divulgazione scientifica, credo che sia un regalo che Librixia ha fatto alla nostra città e che voi state facendo non solo a Dario per la vostra presenza, ma a Librixia stessa perché credo che sia un tributo alla qualità di questa grande rassegna, chi di libri vuole parlare ma tramite i libri ci aiuta a trattare tanti argomenti anche con un taglio che il grande pubblico bresciano sta apprezzando particolarmente. Per cui grazie davvero a tutti di essere qui presenti. Potete applaudire, così un applauso me lo porto a casa anche io. Certo. Bene, Dario Bressanini lo conoscete tutti, è divulgatore scientifico ma prima ancora che divulgatore scientifico, è un ricercatore docente dell'Università dell'Insubria dove insegna chimica, fisica, chimica e tecnologia degli alimenti, se ricordo bene. Tanti corsi. Tanti corsi universitari ma molti lo conoscono, anche i più diciamo lo conoscono come blogger, youtuber, chi più ne ha più ne metta diciamo che ogni possibile fonte o canale di informazione tanto della modernità come della post modernità Dario Bressanini lo utilizza per portare un'informazione scientifica di qualità e sappiamo quanto ce n'è bisogno. Oggi presentiamo il libro Fa bene o fa male, manuale di autodifesa alimentare, ma molti di voi l'avranno conosciuto per le sue pubblicazioni precedenti, sapete che ha trattato temi scottanti come quelli degli organismi geneticamente modificati. O il bicarbonato che è più scottato. Del bicarbonato, dei detersivi, oltre che della carne, della verdura, insomma di tutto quello che finisce nel nostro carrello della spesa e che siccome finisce nel nostro carrello della spesa ci stimola, ci spinge a farci un sacco di domande. Il problema sono le risposte che andiamo a cercare e che troviamo spesso sono delle rispostacce, sono appunto nel mare dell'informazione contemporanea, troviamo tantissima disinformazione e allora un libro come questo è appunto una sorta di manuale di autodifesa dalla disinformazione. Ancora più questo è importante nel momento in cui trattiamo un tema come quello alimentare e parlando di alimenti sappiamo quanto il cibo ha a che fare con la nostra salute tanto da un punto di vista appunto chimico quanto da un punto di vista anche psicologico e della nostra percezione di quello che andiamo a ingurgitare. Ecco allora che serve una sorta di ancora di salvezza in questo mare così agitato della disinformazione. Dario ce ne offre non solo alcuni spunti molto puntuali su alcuni degli alimenti dai salumi all'acqua, dagli zuccheri al sale, dalla cioccolata agli sciroppi quindi gli alimenti anche più di uso comune su cui comunque ci facciamo tantissime domande e fatichiamo a trovare delle risposte corrette. Però prima di entrare nello specifico di alcuni di questi esempi e delle ricerche che poi Dario ci propone in questo volume volevo proprio trattare il tema dell'informazione della disinformazione perché lo spiega molto bene nell'introduzione di questo bel libro Dario il linguaggio scientifico che sarebbe la cosa che più dovrebbe essere diciamo precisa, inequivocabile e chiara in realtà si presta moltissimo all'utilizzo distorto e in qualche modo anche fraudolento proprio per la complessità del linguaggio scientifico stesso e questa cosa qua ci espone in qualche modo a appunto questi utilizzi distorti che poi ci prendono come delle prede da parte di chi lo utilizza delle prede anche per vendere piuttosto che per spacciare più o meno scientificità rispetto a dei prodotti di largo uso commerciale. Ecco, ci dici qualcosa su questo tema del linguaggio scientifico e di questa doppia veste diciamo del linguaggio scientifico? Ok, allora vabbè, rinnovo il mio ringraziamento, grazie per l'introduzione. Il libro è nato proprio per spiegare un po' i meccanismi, come diceva Roberto ho preso degli alimenti o di quello che beviamo di uso comune di cui noi non possiamo fare a meno l'acqua, tutti dobbiamo bere acqua, poi c'è chi la beve nel rubinetto, chi beve quella minerale, chi ha il depuratore a casa o il sale, ci sono centomila tipi di sali, da iodato, quello bianco normale, quello rosa, lo zucchero, i zuccheri e così via. Quindi sono cose di tutti i giorni di cui comunque c'è un sacco di cattiva informazione in giro, le miti, le leggende, ma l'acqua del rubinetto ti farà venire i calcoli ma forse è meglio che prendo l'acqua a basso residuo fisso, il sale, prendo quello integrale, quello iodato. Quindi lì faccio chiarezza, però in realtà prendo questi esempi proprio per far capire come uno dovrebbe approcciarsi a qualsiasi domanda che gli venga in mente su un alimento, ma in realtà il ragionamento vale anche per tante altre cose, per i cosmetici, per i diversivi, per i farmaci, le domande sono sempre le stesse e quindi vado a capitolo per capitolo ad affrontare aspetti diversi. Uno di questi, uno dei primi, è proprio quello del linguaggio perché effettivamente molto spesso la pubblicità utilizza, abusa diciamo del linguaggio scientifico, prende delle parole che possono sembrare scientifiche, lo scientifichese e poi c'è la versione da chimico che è il chimichese. Se io voglio impressionare, per esempio nei cosmetici è diffusissimo, andate nella sezione cosmetica di qualche supermercato in una profumeria trovate cose, il biofito complesso con le cellule attivate staminali vegetali, che uno dice cavoli. E poi non vuol dire niente, è un po' come il gran melò di Dario Fo, se qualcuno se lo ricorda. La supercazzo. La supercazzo, una prematurata come se fosse Antani, assolutamente no. Però questa cosa ti colpisce, cioè è un linguaggio del marketing che cerca di accreditare, di ammantare un prodotto che magari non ha particolari proprietà, di una qualche proprietà che dovrebbe derivare da queste presunte proprietà scientifiche. Cioè ci sono a volte appunto queste parole che in realtà non vogliono dire niente, a volte ci sono magari dei simboli o basta semplicemente il richiamo, perché poi il nostro cervello funziona così, ti dicono raramente sui prodotti dicono esplicitamente, guarda bevi questa cosa, mangia questa cosa perché ti fa bene, perché contiene il ferro, perché... basta dire contiene ferro, e tutti noi associamo, siccome ci hanno detto, ed è giusto, è vero, il ferro è un elemento di cui ne abbiamo bisogno però siamo noi che facciamo, appunto siamo lì che compriamo, almeno chi li compra, i cereali della colazione cioè la scatola anonima, quell'altra con scritto contiene ferro, e dice contiene ferro, il ferro fa bene, allora lo compro, no? e non ti viene in quel momento da farti delle domande tipo, vabbè ma prima di tutto io ho carenza di ferro, no? Poi il ferro dei cereali quant'è? È sufficiente? È biodisposto? C'è dentro il ferro, effettivamente sì, a volte mettono semplicemente della limatura di ferro ci sono dei video su YouTube dove si vedono dei cereali, li mutano nell'acqua, poi con la calamita li spostano quindi è ferro che poi il mio corpo è in grado di essere assimilabile, la stessa cosa per le patate, le patate al selenio non so chi si ricordano di un po' di anni fa, le patate intelligenti, così quindi sono tutti tentativi di sfruttare un linguaggio scientifico dicendo delle cose e suggerendone, diciamo, subliminalmente altre anche se in realtà non è così e quindi noi dobbiamo un po' difendere, dobbiamo imparare a difenderci, essere scettici perché siamo, diciamo, siamo probabilmente come specie, non so, ci vorrebbe un antropologo che lo spiega ma siamo tendenzialmente portati a credere a un sacco di roba e quindi siamo vittime perché Un antropologo forse ti direbbe che siamo anche un po' avvezzi al pensiero magico e tu lo citi perché proprio all'inizio della tua introduzione dici lo scrittore di fantascienza Arthur Clarke sostiene nella sua cosiddetta terza legge che qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia e il pensiero magico ci affascina esatto e questo viene sfruttato da chi ti vuole vendere magari può essere un'azienda ma può essere anche qualche guru e paraguro di quelli che appunto sono diffusi sui vari social e si atteggiano appunto e poi ti vogliono vendere magari o le loro lezioni o il loro libro e così via e sfruttano questo tipo di meccanismo perché se è vero, come diceva Clarke che una scienza sufficientemente avanzata è indistinguibile per chi non è esperto da un qualche cosa di magico vuol dire che tu, però vuol dire che tu puoi al contrario puoi spacciare qualche cosa che non è scientifico per qualcosa di scientifico basta usare il linguaggio guarda ti dico stamattina, forse qualcuno di voi l'ha vista la prima pagina del giornale di Brescia apriva proprio con un riferimento super scientifico sul fatto che uno scienziato bresciano al CERN di Ginevra ha trovato che anche l'antimateria è attratta dalle forze gravitazionali non so neanche se l'ho detta giusta però è qualcosa che effettivamente affascina perché è talmente la frontiera della scienza della fisica, della fisica teorica a quella pratica ma è qualcosa che per qualunque essere umano di media cultura è molto confinante con qualcosa di magico sì sì no è vero e quindi noi abbiamo il problema noi tutti anch'io perché nessuno di noi è esperto su tutto neppure io nel momento in cui veniamo a contatto con un'informazione che di solito sono informazioni che vanno a toccare delle emozioni perché poi il trucco è quello o emozioni negative per cui attenzione non mangiare quella cosa, quella sostanza perché ti viene il cancro ti viene una malattia brutta oppure il contrario ti vendono la speranza bevi acqua e limone la mattina che ti cura da qualsiasi cosa quindi quando giocano su queste cose noi abbassiamo le nostre difese e non sappiamo più distinguere dall'informazione vera che pure c'è non è che tutte le cose che si dicono sono delle balle però è difficile riuscire a distinguere tu dici una delle prime cose che dobbiamo porci è innanzitutto vedere chi le dice le cose però anche chi le dice non è mica così facile da capire perché a volte l'abito fa il monaco il famoso camice bianco il camice bianco ma sì, tra l'altro l'abbiamo visto molto durante la pandemia c'è uno dei primi capitoli che si chiama proprio l'abuso mediatico del camice bianco che è l'idea che noi tutti io per primo tendiamo a credere sulla fiducia questo è il punto sulla fiducia qualsiasi cosa venga detto da un professionista diciamo delle professioni sanitarie può essere un medico, un farmacista e così via non abbiamo questa idea di credere a qualsiasi cosa uno dica se è un chimico, un fisico, un economista, un politico lì le difese sono molto più alte mentre quando si ha a che fare con i professionisti che hanno a che fare con la nostra salute noi tendenzialmente ci crediamo è una cosa assolutamente naturale che capita anche a me perché prima o poi tutti noi abbiamo da mettere la nostra vita o quella dei nostri cari nelle mani di qualcuno è impensabile che io non mi fidi di qualcuno che mi deve curare magari una malattia forse era impensabile fino al covid perché poi abbiamo iniziato a non fidarci più neanche di quello esatto questo poi ha creato un grosso danno diciamo di comunicazione della scienza però lì si è visto benissimo come c'è stato proprio l'abuso di quello che io chiamo il camice bianco cioè il fatto che tu mi devi credere perché io sono un medico tu mi devi credere perché io sono un farmacista tu mi devi credere sulla fiducia e non invece portando le prove e questa cosa qua durante la pandemia secondo me si è visto benissimo in cui c'erano tantissime trasmissioni televisive poi ognuno spesso i talk show avevano il virologo di riferimento poi non erano neanche i virologi cioè il giornalista non è neanche in grado di distinguere tra il virologo cioè quello che studia i virus in laboratorio ma l'epidemiologo l'immunologo altri tipi di medicina erano tutti diventati virologi tutti col camice bianco ognuno dava la sua opinione questo è stato il grosso problema non tutti ma quasi tutti davano la loro opinione e non si facevano invece tramite tra quello che la comunità scientifica aveva scoperto o cercava di capire in quel momento in cui si capiva veramente poco perché era un virus nuovo e il pubblico e invece ognuno dava la sua opinione per cui a seconda se uno guardava la 7 rete 4 taglia 1 aveva un'idea completamente diversa di quello che si doveva fare di quello che non si doveva fare dei possibili rischi e pericoli perché? perché c'erano questi personaggi che hanno un po' tradito così secondo me lo spirito scientifico la scienza è qualcosa di collettivo è una costruzione collettiva e di scetticismo organizzato tutto è falso finché qualcuno dimostra dimostra che è vero con delle parole con delle dimostrazioni degli esperimenti lì ognuno dava la sua opinione e purtroppo i giornalisti non avevano forse per formazione culturale non so ma nessuno gli andava a dire ma dove sono le prove dove dice questa cosa sulle mascherine sul fatto che questa cosa non funziona oppure potrebbe funzionare è un grosso danno diciamo all'immagine della scienza ecco secondo me tu infatti scrivi insomma che non partecipi mai volentieri a un talk show dove ci sono i pro e i contro no no rifiuto proprio anche durante la pandemia io chi mi segue qualcuno di voi probabilmente di sicuro mi segue mi ha seguito durante proprio la pandemia dove ho appunto io e alcuni miei colleghi insomma Roberta Ville si siamo messi prima parlavamo appunto chi di creme chi di pizza e altre cose ci siamo messi a raccontare un po' come funziona la scienza e spiegare di giorno in giorno cosa stava succedendo e quindi abbiamo ricevuto insomma una certa visibilità io durante la pandemia su Instagram ho aumentato di centomila le persone che mi seguivano in un botto in due mesi insomma quindi ovviamente poi siamo stati cercati da trasmissioni televisive e così io ho quasi sempre rifiutato perché poi spesso mi chiamavano tipicamente insomma la sette diciamo ah vorrebbe venire a spiegare lei ha raccontato questa cosa che ha spiegato perché è una cavolata fare il tampone al kiwi c'era il momento il momento complottista e io gli ho detto sì guardi è una cazzata perché gli ho spiegato tutto perché ma potrebbe venire in trasmissione a spiegarlo ma dipende insomma e la metteremo davanti a discutere con quell'altra persona che invece dice che sono e io mi sono sempre rifiutato perché non funziona così non è un dibattito cioè nella scienza non fai discutere un astrologo con un astronomo anzi se succedono cose di questo genere dai dignità scientifica all'astrologia che non ce l'ha e loro invece ma noi dobbiamo fare lo spettacolo questo è l'errore fondamentale lo scambiare dei programmi tra intrattenimento che tutti i toy show sono in programmi di intrattenimento per programmi di informazione e lì è veramente pericolosa stata questa cosa infatti io non ci sono mai andato altri sono andati io mi sono rifiutato raccontavo le mie cose chi voleva seguirmi mi seguiva chi non voleva seguirmi pazienza però ecco è pericoloso andare in questo meccanismo io dico una cosa A e tu dici B alla fine confondi solo lo spettatore perché poi diciamo tra virgolette vince il dibattito quello più piacione quello che fa più battute quello che urla di più eh ma sì che fa cacciara poi alla fine sono sempre gli stessi tu dicevi che la scienza necessita di una base collettiva cioè la comunità scientifica assolutamente ma non significa che la scienza sia democratica sono due cose completamente diverse allora ma lì si può discutere in un certo senso è democratica nel senso che all'interno della comunità scientifica consente serve arrivare a un consenso scientifico cioè vuol dire che se domani il mio collega all'università viene lì da me mentre bevamo il caffè alla macchinetta e mi dice guarda io ho scoperto la macchina per il moto perpetuo e io gli dico ma fammi vedere le prove no cioè no fidati no io non mi fido la scienza è scetticismo se lui mi fa vedere le prove mi fa vedere l'esperimento io lo rifaccio io cambio idea e alla fine si costruisce un consenso non c'è una votazione esplicita no però funziona così è sempre funzionata così nel corso insomma dell'ultimo secolo che a un certo punto le prove a favore sono di un certo fenomeno di un certo studio sono preponderanti e quindi ci si convince cioè ogni scienziato è ben disposto a cambiare idea basta che gli si porti le prove cioè se non ci sono le prove mi spiace cioè tutto è falso in attesa di essere dimostrato è vero insomma e se è vero raramente scopriremo una qualche notizia fondamentale dal gruppo whatsapp della palestra o del calcetto cioè no quindi io la prima mi ricordo una delle prime cose che ho detto durante la pandemia a tutti quelli che mi seguivano lui ha detto toglietevi da tutti i gruppi della famiglia anche della famiglia perché c'è il vecchio zio la cugina che vi manda i vocali complottisti che arrivano dall'infermiera di non si sa bene dove che ha scoperto chissà che cosa cioè se c'è qualche notizia importante lo verremo a scoprire da qualche da qualche fonte diciamo un po' più pesante un po' più controllata ma io direi che possiamo anche iniziare a trattare di qualche alimento che tu hai voluto sviscerare in questo libro non possiamo che partire dal cioccolato ah no perché il cioccolato pensavo dal vino non lo so no no iniziamo dal cioccolato che di solito si dice dulcis in fundo invece noi iniziamo iniziamo dal dolce e finiamo al salato magari così ribaltiamo la dieta ma questo cioccolato fa ingrassare o dimagrire il cioccolato è grassissimo cioè contiene un sacco di grassi grassi saturi no perché poi appunto vi ricordate quando c'è stata appunto la polemica mediatica contro l'olio di palma perché contiene l'acido palmitico ecco il cioccolato è ricchissimo di acido palmitico che è dentro anche nel cioccolato a proposito spoiler questo libro non parla di olio di palma incredibile ma vero no non parla di olio di palma però si capisce quindi il cioccolato cioè perché non so se vi siete mai chiesti perché fanno la tavoletta e fanno i quadratini perché un po' perché è più facile da spezzare ma perché la dose consigliata è il quadratino poi capisco che sia difficile da accettare questa cosa no ma quello anche per me io cioè io il mio top è il cioccolato fondente al 70% con le nocciole dentro quindi c'è più che è veramente però se uno va a fare insomma queste cose noiose delle 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 tabelle nutrizionali vede che alla fine insomma il cioccolato un quadratino deve essere proprio una coccola quindi di sicuro è grasso al massimo possiamo prendere il toblerone con i quadratoni con i grossi per mangiarne uno altrimenti è impossibile fermarsi il toblerone però credo sia il cioccolato al latte quindi è meno calorico un pochettino meno calorico del cioccolato fondente questo stupisce sempre quando lo racconto perché mi dice ma com'è la mia nutrizionista mi consiglia solo il cioccolato fondente perché? non so chiedilo a lei ma guardate guardate le tabelle guardate l'etichetta dietro prendete al supermercato andate domani andate nel settore cioccolato prendete due cioccolati uno non so fondente uno al latte uno fondente al 70% uno fondente al 90% vedete che le calorie aumentano perché i grassi sono un cioccolato al 90% vuol dire che ha il 90% cacao massa di cacao e il 10% zucchero al 70% vuol dire che il 70% cacao e il 30% zucchero i zuccheri un grammo di zucchero contribuisce alle calorie per 4 chilocalorie un grammo di grasso per 9 chilocalorie quindi più del doppio quindi se io tolgo 10 grammi di zuccheri gli emetto 10 grammi di grassi ho aumentato cioè proprio è matematica proprio una cosa molto semplice per cui non so bene perché venga consigliato il cioccolato il cioccolato sì ma solo fondente questo non lo so quindi è grassa è ingrassa però lì lo prendo come esempio oltre a raccontare appunto tutte queste cose perché a un certo punto sono usciti degli articoli che pretendevano di dimostrare che facesse dimagrire non che non ingrassasse ma addirittura facesse dimagrire che è il sogno di tutti i mangioni io mi faccio i miei 120 grammi di pasta alla carbonara con entro due tuorli la pancetta o il guanciale fate come volete io non sono un talebano così e per dimagrire non è che ti dice magari fai 50 grammi di pasta no anzi no continua con i 120 grammi poi mangiati mezza tavolette di cioccolato e dimagrisci sarebbe l'ideale e uno dice cavali ma l'hanno pubblicato e infatti c'è un articolo scientifico ci sono più articoli scientifici su questa cosa quindi io prendo in questo capitolo racconto un po' di cose sul cioccolato però faccio vedere un po' come funziona il meccanismo delle pubblicazioni scientifiche perché spesso molte cose che sentiamo in giro i giornali sono cose completamente inventate che non hanno una fonte quindi se voi leggete una notizia e non c'è riportata neppure la fonte dove è stata fatta questa cosa su quale rivista scartatela senza problemi cioè non merita di perdersi di tempo a volte però c'è scritto pubblicata su questa rivista studio dell'università svedese sono sempre un po' posti l'università svedese svizzera non è mai torvergata del resto la svizzera col cioccolato è giustamente e quindi faccio vedere un po' come funziona perché quando ci dicono ripeto durante la pandemia era tutto uno studio ha dimostrato che dimostrato calma è una parola è una parola molto forte quindi non tutti gli studi sono uguali uno non vale uno in quel caso c'è tutta una gerarchia uno studio fatto su cosa in vitro sui topi sulle persone e poi su quante persone su dieci su cento su mille come le avete fatte cioè quindi c'è tutta una gerarchia che vi li vado a spiegare che purtroppo è necessaria per se uno vuole un po' cercare di capire come funziona e lì proprio lo smonto c'era questo articolo che era stato fatto volutamente diciamo usando tutta una serie di trucchi statistici per poter dimostrare con dati veri quindi hanno usato dei dati veri per raccontare una balla sostanzialmente si può fare già la statistica la cosa famosa di Trilussa che si dice io e te mangiamo insomma due polli in media però io ne mangio due tu mangi zero quindi ci sono tutta una serie di tecniche statistiche che purtroppo si usano sempre di più con questa pressione dei ricercatori e degli scienziati di pubblicare 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 e lì appunto hanno fatto questa cosa qua col cioccolato poi appunto io faccio vedere lo smonto ovviamente non ha nessun tipo di senso però effettivamente c'è un articolo di questo genere chi l'ha scritto voleva poi riuscire a arrivare sui giornali infatti era pieno poi appunto succede così durante il meccanismo uno scienziato uno studioso un ricercatore un medico fa una ricerca scrive la manda a una rivista ci sono riviste di serie A di serie B alla fine ci sono riviste di serie Z e poi addirittura ci sono riviste per cui tu paghi riviste scientifiche paghi e ti pubblicano qualsiasi cosa senza controllare niente quindi non basta che una cosa sia pubblicata poi una volta che viene pubblicata adesso purtroppo succede che la tua università il tuo ente di ricerca così la tua azienda manda il comunicato stampa ai giornali l'obiettivo è anche finire sui giornali è chiaro che un titolo come il cioccolato fa dimagrire ha una grande probabilità di finire sui giornali e infatti poi riporto dove e quindi arriva sui giornali e era proprio quello che volevano chi ha fatto questo studio perché volevano proprio far vedere come scostruendo ad hoc uno studio per dimostrare una cosa che non era vera si riesce però arrivare sui giornali e finché se è il cioccolato uno dice vabbè ma chi se ne frega il problema è che questo tipo di inghippi loro hanno sfruttato proprio una di queste riviste dove uno paga e pubblicano senza neanche fare un minimo di controllo non sono tutte così però insomma ce n'è una varia gradazione il problema non è tanto il cioccolato ma quante per esempio quanti farmaci vengono pompati autorizzati quanti integratori quante procedure anche chirurgiche e così via che poi dopo si scopre dopo 5 anni 10 anni 20 anni che in realtà non c'era non c'era niente e di questi giorni per esempio la notizia non so se qualcuno di voi segue sente il podcast ci vuole una scienza l'hanno raccontato che è una sostanza molto utilizzata per la decongestione del naso chiuso che era stata utilizzata e c'è un miliardo di dollari non ha nessun effetto cioè gli studi che erano stati fatti non avevano senso e di fatto non funziona però insomma questa cosa è arrivata 10 anni dopo quindi questa cosa qua del cioccolato la prendo per instillare un po' di scetticismo cioè bisogna essere più scettici perché altrimenti se prendiamo per oro colato qualsiasi cosa arrivi anche se ci dicono guardate che c'è lo studio dell'università svedese o lituana che ha pubblicato sta roba dice vabbè però uno studio non vuol dire mai niente invece c'è questa tendenza poi del giornalismo a dire l'ultimo studio pubblicato sicuramente è quello vero e annulla tutto quello precedente che non è così purtroppo e finché parliamo di cioccolato insomma diciamo che la questione è abbastanza semplice c'è anche il capitolo dove ti fa diventare più intelligente sì esatto però anche quello è un grande classico dicevo è semplice perché insomma siamo abituati a pensare al cioccolato o quello bianco o quello nero o quello o quello al latte o quello fondente ma Dario dedica un bellissimo capitolo a quello che chiama la saga dell'aggiuntosio per stare sempre sul tema degli zuccheri vi leggo poche righe zucchero di cocco siroppo d'agave malto d'orzo melassa siroppo di riso zucchero bruno zucchero di canna saccarosio glucosio fruttosio maltosio lattosio siroppo di mais zucchero di datteri zucchero d'uva sciroppo di glucosio fruttosio miele sciroppo di malto sciroppo d'acero sciroppo muscovado zucchero grezzo panela rapadura sciroppo di malto di riso sciroppo di sorgo e poi zuccheri totali zuccheri aggiunti zuccheri liberi zuccheri semplici zuccheri della frutta indice glicemico, carico glicemico, insulina e asterischi, asterischi sulle etichette ovunque. Cos'è sta saga dell'aggiuntosio? Questi sono tutti nomi di sostanze che dolcificano, che si usano comunemente, o li troviamo a volte addirittura al bar, o il dilemma del mattino, quando andiamo al bar, c'è chi di voi va al bar, c'è la bustina dello zucchero bianco e la bustina dello zucchero di canna. Poi in realtà il quattro quinti dello zucchero bianco deriva dalla canna, quindi è improprio parlare di zucchero di canna, semplicemente c'è un grado di purificazione diversa, ma anche in Italia ormai le coltivazioni della barbabietola sono praticamente scompasse. Questa cosa qua, però ci sono anche altre cose, c'è il fruttosio, oppure ci sono lo sciroppo di datteri, lo zucchero di cocco che ultimamente sta andando forte, lo zucchero di palma, quindi sembrano tutti prodotti diversi, perché? Perché a un certo punto si è demonizzato il normale zucchero bianco, che è un prodotto che utilizziamo almeno dal 1200, i veneziani, la Repubblica di Venezia quando ha installato, dopo aver carpito il segreto dagli arabi di come si purificava lo zucchero, ha istituito delle raffinerie, degli zuccherifici, sia nella zona della Siria, sia vicino a Ravenna e vicino a Padova, e produceva zucchero di varie gradazioni colorate, da quello più bianco, che era quello raffinato, ma raffinato è un termine positivo, è qualcosa di raffinato, di buono, che costava ovviamente di più, e se lo potevano permettere solo i ricchi, i nobili, e quelli un po' più colorati, c'erano addirittura tipo 16 gradazioni, fino ad arrivare a quello più scuro, che dolcificava, però non ci potevi fare una serie di dolci, per esempio, perché era molto pastoso e così via. Quindi nel momento in cui si è demonizzato lo zucchero bianco, per tutta una serie di storie che li racconto, ma completamente inventate, tipo viene sbiancato con la candeggina, viene colorato di bianco, cioè lo saccarosio è bianco naturalmente, e allora però noi tutti siamo geneticamente predisposti per apprezzare il dolce, il gusto dolce, non possiamo farne a meno, è nella nostra genetica, e c'è un senso perché i bambini, i neonati, quando nascono, devono avere la voglia di attaccarsi al seno materno, perché il latte materno è dolce, perché contiene lo zucchero, il lattosio in quel caso è molto dolce. E quindi un'eventuale mutazione genetica che portasse a un disgusto del dolce si bloccherebbe subito, perché non potrebbe volerlo. Quindi a noi tutti piace il dolce, perché il dolce è sinonimo di zuccheri, quindi sinonimo di energia, e quindi questa idea, gli antropologi spiegano, gli antropologi evoluzionisti, spiegano appunto perché ci piace il dolce, perché ha aiutato la specie, per esempio, Homo sapiens, quando si è spostata, è uscita dall'Africa, è venuta in Europa, è nata in giro, si trovava in zone dove c'erano cose diverse da mangiare rispetto a quello che era abituato. E il piacere, il fatto che ci piacesse il dolce, permetteva di selezionare delle, anche se non lo sapevano ovviamente, ma dei cibi energetici, che potrebbero essere energia, quindi è stata una sorta di aiuto per muoversi e trovare cibi in posti dove non si sapeva cosa c'era. Quindi, demonizzata questa, noi vogliamo il dolce, quindi noi vogliamo il dolce ma non vogliamo leggere il zucchero nelle etichette, e allora c'è la corsa nelle aziende a o far finta che non c'è, quindi scrivere senza zuccheri, con l'asterisco, uno va a vedere la marmellata, con la confettura, senza zuccheri aggiunti, con l'asterisco, andate sempre a leggere l'asterisco, uno va a vedere l'asterisco e c'è scritto poi, contiene naturalmente zuccheri, oppure solo zuccheri della frutta, e uno dice, ma la frutta è quella lì, sto comprando la confettura di fragole, saranno lo zucchero della fragola, no, perché non è abbastanza. Le confetture sono nate, confetture marmellate, insomma, sono la stessa roba, solo che, storicamente, marmellate sono quelle di agrumi, ma alla fine è la stessa roba. Hanno bisogno di almeno del 50% di zucchero per conservarsi, altrimenti fa la muffa, non si conserva, quindi è una roba tecnica, al di sotto non lo puoi fare. Quindi, quando trovate l'asterisco, una marmellata senza frutta, senza zuccheri, andate a vedere gli ingredienti, la lista degli ingredienti sono messi in ordine di percentuale, sono quelli più importanti, poi sempre quelli meno importanti. Lì faccio un racconto della mia marmellata che avevo preso di mandarino, vai a vedere il primo ingrediente con l'asterisco, senza zuccheri della frutta, pure buono, non sto discutendo della qualità, ma solo del linguaggio che viene utilizzato, e il primo ingrediente è sciroppo di mela, concentrato. Che cos'è? Quindi uno legge gli strattamenti e dice, vabbè, la mela, non c'è lo zucchero, è dietetica, perché poi il rischio è interpretare questa roba come una roba dietetica, che non contiene di zuccheri. In realtà gli zuccheri ci sono perché altrimenti non potrebbero conservarsi questi prodotti, ma sono camuffati, ci devono essere, e allora cosa fanno? Si prende la mela, buttano via la buccia, che con tutte le sostanze buone che contiene le fibre, spremono, buttano via le fibre, anche lì sono cose che uno dovrebbe mangiare, perché fanno bene, ottiene uno sciroppo, lo concentra, diventa di fatto... Zucchero. Si, è una miscela di glucosio e fruttosio. Praticamente tutta quella lista enorme che hai fatto, alla fine non sono nomi diversi, ma sono quasi sempre saccarosio, glucosio e fruttosio, sono sempre gli stessi. Lo zucchero, lo sciroppo d'agave, lo sciroppo che va tanto di moda, per esempio in certi giorni, sciroppo d'agave è uno sciroppo, quindi vuol dire che sono zuccheri sciolti in acqua, e quali sono gli zuccheri? È fruttosio, di fatto è fruttosio con una piccola percentuale di saccarosio. Lo sciroppo d'acero, che è buonissimo per fare i panchi così, è saccarosio, fatto bollire, quindi le sostanze marroni che si sono create, non sono dentro nell'acero, la linfa dell'acero è trasparente, è bianca, trasparente, sono frutti della produzione industriale, questi colori scuri, esattamente come per il zucchero, lo zucchero naturale non è scuro, quello è il frutto della produzione, del riscaldamento. Alla fine sono sempre, dicevo, lo sciroppo d'acero è al 99% saccarosio, uguale, e invece però c'è questa aura di, fa meno male, non si capisce mai bene perché. E quindi anche lì, questo trucco, c'è lo sciroppo di mela concentrato, oppure il succo d'uva concentrato, che è uguale, l'uva contiene glucosa e fruttosio, altrimenti non riusciremo a fermentarla per fare poi il vino, e poi la grappa e tutto il resto, e quindi fanno uno sciroppo, e questo è un trucco che le aziende utilizzano per, grandi e piccole, da quelle più piccole a quelle molto più grandi, utilizzano per far finta che non ci sia zucchero dentro. Però se voi andate a vedere la tabella nutrizionale, quella cosa con tutti i numerelli, c'è scritto carboidrati, tot, di cui zuccheri, tot, andate a vedere che su 100 grammi sono tra i 45 e i 50, i 55 grammi di zuccheri, solo che non li si vedono nell'etichetta. Quindi o sono nascosti in questa maniera, oppure sono camuffati con quest'idea che ci sono degli zuccheri che fanno meno male, che alla fine sono sempre gli stessi, glucosio, fruttosio e saccarosio, solo che uno magari dice, vabbè questo zucchero di cocco è diverso, no? Chimicamente è sempre, in un zucchero di cocco è una miscela di saccarosio e fruttosio, alla fine sono sempre gli stessi, no? Io lo dico, l'unico zucchero dietetico è quello che noi non mangiamo, perché è così, sono tutti uguali, però ci facciamo, poi ce la raccontano su uno, poi il cocco, abbiamo in mente, vediamo le palme, che poi tra l'altro mi ha fatto venire in mente, è curioso, no? Che l'olio di palma è demonizzato, lo zucchero di palma invece, chissà perché no, non si capisce bene perché. Per cui sono tutti trucchi linguistici, alla fine torniamo sempre lì, è un libro scientifico, però in realtà parla un sacco di linguaggio e di comunicazione, perché è quello il veicolo con cui ci convincono a comprare una cosa invece che un'altra, e dobbiamo difenderci. E quindi se l'unico zucchero dietetico è quello che non mangiamo, temo così a naso che la stessa regola valga anche per i salumi, l'unico salume dietetico è quello che non mangiamo. Ma lì c'è una cosa ulteriore, perché lo zucchero non è cancerogeno, che ne dica certi guru e paraguro, la farina 00 non è cancerogeno, c'è un elenco ufficiale delle cose che sono state dimostrate essere cancerogeno, la farina non lo è, lo zucchero non lo è, c'è tutta una serie di cose. I salumi purtroppo sì, lo sono, cioè ci sono centinaia di studi da in vitro sugli animali, studi epidemiologici sull'uomo, studi di meccanismi, ormai sappiamo con certezza, così come il fumo sia attivo che passivo è cancerogeno, lo è l'alcol, tutte le bevande alcoliche, dalla birra, il vino, la grappa, indipendentemente dalla qualità o dalla bontà, perché mi ricordo che quando era saltato fuori, stessa cosa vale per il salumi, quando salta sempre fuori, di solito durante il Vini Italy, non c'è sempre, poi c'è sempre, durante il Vini Italy c'è qualcuno che dice ragazzi comunque va bene il vino, c'è anche una questione culturale, come di tutto il resto del cibo, convivialità, va bene tutto, però magari non spacciamolo per una cosa che fa bene, cioè ricordiamo che, e di solito c'è sempre il ministro dell'agricoltura di turno che va al Vini Italy, che dice no ma il vino italiano no perché è di qualità, e la stessa cosa mi ricordo era successa quando è uscito questo rapporto dell'OMS che ha semplicemente messo insieme tutte le varie prove, ma si sapeva già da tempo che un certo tipo di consumo di carni trasformate in generale, perché vale con i wuster, vale con le salsicce e così via, può aumentare la probabilità di sviluppare un certo tipo di campo, aumentare la probabilità, che è una cosa un po' complicata. Infatti ti sveglio che quando ho aperto il libro la prima volta e ho letto l'indice, mi sono soffermato su questo capitolo 4 che si intitola Un culatello ci ucciderà e l'ho riletto più volte perché all'inizio... Ma il titolo hai letto o ho tutto il capitolo? Non ho il titolo, ho letto il titolo più volte perché all'inizio l'ho letto Un culatello ci ucciderà? Cioè speravo di trovarci un punto di domanda in fondo e invece il punto di domanda non c'è. Tra l'altro devo dire che da autore sono molto orgoglioso dei titoli che sono riuscito a dare ai miei libri. E fai bene. Il mio favorito, devo dirlo, mi ha autoincenso un po', c'è tutto un capitolo che parla del sale iodato, che è una cosa che fa bene, nel senso che noi abbiamo sconfitto la carenza di iodio. Ah beh, quello è stupendo. E il titolo l'ho chiamato sempre sia iodato. Sempre sia iodato. Poi tra l'altro, visto che siamo qua tra di noi, c'è un titolo che avrei voluto dare ma l'editore non me l'ha permesso. Queste cose si possono raccontare solamente in queste cose. Il capitolo sull'acqua, ci sono tre capitoli sull'acqua, uno sull'acqua minerale, in bottiglia, l'altro sull'acqua del rubinetto, la qualità dell'acqua e i vari problemi che ci sono. E un terzo capitolo dove parlo sia degli apparecchi per, diciamo, tra virgolette, depurarla, le caraffe, ma anche di tutte quelle acque che vengono spacciate adesso con l'aggiunta di qualsiasi cosa. Quindi un conto è l'alindire carbonica, l'acqua gassata, a me piace, la bevo, la gaga, la casa, è una cosa storica, ma adesso vengono spacciate per miracolose anche tutta una serie di acque con l'ossigeno dentro, l'idrogeno, l'azono, cioè cose che non hanno nessun senso, però vengono spacciate. Allora io ogni tanto chi mi segue mi manda una nuova, guarda ho visto questa roba qua, questa acqua che contiene questa cosa strana, io le salvo nella mia cartella di possibili libri o possibili articoli che potrei utilizzare, e quindi c'è una grande cartella con appunto bevande, poi c'è la sottocartella acqua, e poi c'è una sottocartella dove io metto dentro tutte queste acque strane, e questo il titolo del capitolo era Acque con l'aiutino. In realtà il titolo della mia cartella si chiama Acque della minchia, e voleva, perché sono proprio delle minchiate, scusate il francesismo, è solo che, quindi il titolo, perché c'è l'acqua con l'ozono, ma perché l'acqua con l'ozono? L'ozono è pure tossico, e quindi il titolo originale del capitolo era così. Poi il mio editor, lì a Mondadori, mi ha detto ma forse non è molto elegante, sai Mondadori, e quindi l'ho chiamata così. Poi la domanda cos'era? No, era sul culatello. Ah, il culatello. Ma sì, lì purtroppo, quello diciamo è il capitolo più serio, anche poi che mi tocca anche personalmente, tra l'altro molti di voi sanno che io ho un tumore che sto trattando. E quindi ho cercato di raccontare un po' che cosa vuol dire che un qualche cosa, in quel caso un alimento, ma appunto vale per qualsiasi altra cosa, qualsiasi agente che sia cancerogeno, perché il cancro è una malattia che è molto diversa dalle altre, perché ci costringe a ragionare in termini di probabilità, di cose che possono accadere o no. Durante la pandemia, chi di voi si è beccato il Covid, è sicuro che era stato infettato dal virus, proprio 100%, altrimenti infatti facevamo il tampone che lo trovavo. Se uno si becca il raffreddore, si è beccato il virus del raffreddore, cioè c'è proprio un rapporto di causa-effetto. Per il tumore non è così, per il cancro non è così, anche per altre malattie, ma soprattutto in questo caso, sono le nostre cellule che a un certo punto impazziscono, mutano e questo tra l'altro è il motivo per cui il nostro sistema immunitario non gli fa niente, perché non lo riconosce come qualcosa di nemico, sono le nostre cellule e questo è uno dei grossi problemi. Però, visto che si sviluppano tumori durante tutta la vita, in zone diverse del corpo, per motivi diversi, però a volte non succede, cioè l'aneddoto del ah ma mio nonno fumava due pacchetti di sigarette al giorno ed è vissuto fino a 102 anni, è vero, cioè può essere vero, perché è solo una questione di probabilità, quando, e la stessa cosa vale al contrario, no? Cioè, chi non ha mai fumato, vive in montagna, respira aria pura, non dove vivo io, che è il posto peggioro, nel sempione, dove c'è l'acqua, l'aria pessima, eppure gli è venuto un tumore al polmone a 50 anni. Quindi, tutti noi quando nasciamo abbiamo, diciamo, una sorta di predisposizione genetica per tutta una serie di malattie, tra cui anche i tumori in varie zone. Per cui, senza fare niente, noi abbiamo una sorta di tessera, come quella dell'Esselunga, o quella della Coop, con i punti, che ci danno la tessera e abbiamo già dei punti. Quindi, possiamo, con certi nostri comportamenti, aggiungere dei punti tumore, ho preso questa idea, che è geniale, della mia collega, Beatrice Mautino, che ha inventato questa cosa qua, oppure però possiamo anche toglierli, cioè noi abbiamo dei comportamenti alimentari, per esempio, in questo caso, in cui possiamo ridurli. Però siamo costretti a ragionare in termini di probabilità, perché ci dicono, il fumo è cancerogeno, sì è vero, i solumi sono cancerogeni, è vero, la luce del sole è cancerogeno, i raggi ultravioletti sono cancerogeni, quindi lettine abbronzanti, ma tante altre cose, alcuni virus, il papilloma virus, generano dei tumori, certe professioni, non si sa bene perché, ma per esempio, alcune professioni, è dimostrato che aumentino la probabilità di avere qualche tipo di tumore, certi farmaci sono cancerogeni, alcune vitamine, abbiamo quest'idea che le vitamine facciano benissimo, le vitamine sono sostanze di cui noi abbiamo bisogno, ma l'eccesso è dimostrato, per esempio, l'eccesso di vitamina A può aumentare la probabilità di avere un certo tipo di tumore. Quindi siamo costretti a ragionare con i numeri, e noi non siamo molto bravi, perché tutto è cancerogeno, ma in maniera diversa, per cui se uno fuma, rispetto a chi non fuma, ha un aumento di 24 volte, quindi del 2400%, del rischio di beccarsi, di sviluppare, non beccarsi perché non è contagioso, di sviluppare un tumore al polmone rispetto a chi non fuma. Non che chi non fuma non ce l'ha questo rischio, però chi fuma ce l'ha di 24 volte superiore, quindi del 2400%. Se facciamo lo stesso ragionamento con i salumi, col culatello, ma in realtà appunto vale per qualsiasi tipo di carne trasformata, chi non ne consuma, il vegano di Brescia, una persona vegana di Brescia che non mangia, non solo non mangia salumi, ma non mangia neanche i tordi, lo spiedo bresciano, queste cose, quindi è vegano, purtroppo, mediamente in Italia, ha un 6% di probabilità di sviluppare il tumore al colore retto da quando nasce a 80 anni, quindi vuol dire che su 100 persone, 6 persone possono svilupparlo, di solito lo si sviluppa dai 50 anni in più oanti, però c'è un 6%. Qual è l'aumento, se uno invece si mangia tipo 50 grammi di carni trasformate al giorno, dal 6% va al 7%, quindi aumenta, quindi per la classificazione, per la definizione di che cos'è cancerogeno, è cancerogeno, perché aumenta, da 6 al 7 è quasi un invito ad andare avanti a mangiare, quella però è una scelta, quella è una scelta personale, ma infatti questo è uno dei, insomma è importante conoscere i numeri, io non sto dicendo, lo dico nel libro, non è un invito a consumare salumi, perché purtroppo i rischi si sommano, perché questo ragionamento qua uno lo può fare non solo per il salume, ma anche per il bicchiere di vino, lo può fare per, vado al ma, vado in alta montagna, non mi metto la crema solare, quindi i rischi si sommano, quindi è vero che magari singoli rischi sono molto piccoli, ma se poi uno li somma tutti, quindi uno deve farsi questi ragionamenti da soli, però è giusto saperli questi numeri, perché uno può, come dicevo prima, può mettere in atto anche dei comportamenti per ridurli questi rischi, quindi uno va al sole, si mette la crema solare, magari ridurre, ridurre il consumo di salumi, sarebbe, è una cosa che viene consigliata, comunque, perché noi comunque ne consumiamo troppi, c'è tutto anche, non c'è solo il tumore, c'è un accesso, e oltre che salutare sarebbe anche ecologico, ma qua apriamo un altro campo. Poi quello sì, però appunto non c'è solo il tumore, perché ci sono anche i grassi, e quindi c'è tutto il problema delle malattie cardiovascolari, c'è una quantità di sale enorme, quindi sono buoni, sono d'accordo, a me non mi piacciono, però io per esempio non li compro più, mi capita di mangiarli quando sono in giro, però cerco di non comprarli più, però contemporaneamente, per esempio, uno può ridurre questi rischi, non so, mangiando più legumi, mangiando più fibre, facendosi la zuppa di farro ogni tanto, quindi aumentando il consumo di fibre, quindi può ridurre il rischio. Per certe cose invece, come il fumo, il rischio è talmente alto che l'unica cosa da fare è smettere di fumare, perché altrimenti non c'è qualche cosa che può annullare il fumo, e sull'alcol, il vino, o comunque le bevande alcoliche, anche lì, non c'è qualcosa che può annullare l'effetto. Dario, proprio a partire da questo tema, e a partire dalla tua esperienza personale, tu svolgi nell'epilogo del volume una riflessione molto interessante, abbozzata, perché ci vorrebbe altro che l'epilogo, forse dovrebbe scrivere un altro libro anche su questo, ma la riflessione in breve è questa, se è vero, come è vero ed è evidente, che il tumore ci rende vulnerabili, in realtà ci rende vulnerabili non solo dal punto di vista biologico, ma ci rende anche ancora più vulnerabili alla disinformazione. Siamo vulnerabili dal punto di vista psicologico, perché nel momento in cui, ma non solo il tumore, ma qualsiasi malattia, ci sono tante persone che mi scrivono, o che mi dicono, c'è mia zia che è ammalata, ha questa malattia, non riescono a curarla, e così via, e lo zio si è convinto di comprare, non so, questo estratto di funghi, o l'argento colloidale, c'è tutta una serie di cose, perché gli hanno così, fatto balenare la speranza che possa, che possa in qualche modo curare, guarire queste malattie, sono quasi sempre truffe queste cose, e però uno è fragile, cioè è lì racconto proprio la mia esperienza personale, come vi ho detto, insomma io tre anni fa ho scoperto di avere un tumore a un occhio, e vabbè, insomma ho fatto l'operazione, sono stato trattato, insomma, con un fascio di protoni, insomma, una serie di cose, però ci sono tutta una serie di altri problemi, per cui si crea una sacca di liquido sotto la retina, che pian piano la fa staccare, tanto mi hanno detto che non c'è più niente da fare da quel punto di vista, però almeno cerchiamo di ridurre l'infiammazione, e per quasi un anno sono andato avanti a fare delle iniezioni nel bubo oculare ogni due mesi, una roba da arancia meccanica, cioè, iniezioni dentro, vabbè, e non hanno funzionato, non sono riusciti a ridurre l'infiammazione sotto, e quindi a un certo punto l'oncologa, la mia dottoressa, mi dice, Bressanini, e qui dobbiamo ridurre sta roba, però le iniezioni non funzionano, non sappiamo, cioè, purtroppo l'occhio è una zona del corpo molto protetta, per cui quasi qualsiasi cosa che noi mangiamo, i farmaci, non arrivano, non entrano nell'occhio, perché è protetto, assolutamente, quindi ha tutta una serie di barriere, per cui non si riesce a far arrivare le roba, ecco perché mi facevano l'iniezione direttamente nel bulbo, perché era l'unica maniera, altrimenti l'avevi preso per bocca volentieri, e a un certo punto mi dice, guardi, le potrei dare un integratore alla curcuma, alla curcumina, e io dico, sentiamo, però è stata molto corretta, mi ha detto, guardi, ci sono dei trial clinici, delle prove, la curcumina ha un effetto anti-infiammatorio, ci sono dei trial clinici su altre zone del corpo che hanno ridotto in certe dosi, hanno ridotto l'infiammazione, però per l'occhio nessuno ha mai fatto delle prove. Tentare non nuoce, mi ha detto, e io gli ho detto, tentare non nuoce, proviamo, per cui sto prendendo queste bustine di curcumina, di curcumina di arancia, tra l'altro, non è niente di particolare, però anche lì, in quel momento mi sono sentito, ho detto, non c'è nient'altro da fare, mi aggrappo a questa cosa, quindi capisco benissimo le persone che si aggrappano, che magari hanno anche altre malattie così, perché siamo tutti molto fragili, ed è una cosa molto umana, e ci dobbiamo, insomma, dobbiamo venire, venire un po' a patto, adesso io domani mattina sono a Milano, vado alla mia dottoressa, mi farà l'ecografia all'occhio e vediamo, speriamo, cioè, ho fatto da cavi, quindi magari abbiamo scoperto che la curcumina funziona, non credo, perché continua a lacrimare, secondo me non ha servito niente, però lì l'ho voluto raccontare, proprio perché volevo far capire che io non è che sono diverso dal dalle altre persone, sì è vero, vi racconto un sacco di robe sullo zucchero di canna, i salumi, il cioccolato, e così via, ma anch'io, che spesso vengo visto dalle persone come tu sicuramente non ci caschi, tu queste cose le sai, in realtà, diciamo, ci casco anch'io, a volte volontariamente, in quel caso era facile, non c'era nessun tipo di controindicazioni, l'unica controindicazione è il costo, ovviamente queste robe qua te le fanno pagare l'ira di Dio, però va bene, le vendite del libro sono andate bene, per cui posso permettere, viva la curcuma, insomma, però, grazie, è per spiegare che non dobbiamo neanche vergognarci se a volte cadiamo vittima delle nostre stesse parole, perché a volte veramente, non sappiamo che santo votarci, e allora, siccome il tempo a nostra disposizione sta per scadere, però prima di passare in chiusura al sale dell'Himalaya, perché l'ho lasciato, ma molti lo sanno già, no va bene, però magari molti non lo sanno, va bene. Comunque, prima di chiudere con il sale dell'Himalaya, se avremo tempo, abbiamo qui il professor Paolo Vitale, seduto in prima fila, che insegna scienze al liceo Copernico, qua in città, che quest'estate mi ha detto di aver chiesto ai suoi studenti di leggere il tuo libro come compito delle vacanze. Ah cavoli, meglio delle affinità lettive che ha fatto leggere a me di Goethe, se posso dire. siccome il sottotitolo recita manuale di autodifesa alimentare, lui l'ha preso la lettera, è un manuale e l'ha dato da studiare ai suoi studenti. Ci sono anche gli schemini alla fine. Ma non contento di aver fatto ciò, ha imposto ai suoi studenti di venire qua stasera, perché altrimenti non avrebbero neanche... Questo è un po' hard. Quindi, lascerei la parola a Paolo, che magari introduce appunto qualche domanda o considerazione da parte degli studenti del Copernico. Ah no, c'è un altro... Sali, sali, bravo. Occhio alle piante di mio fratello che se no si incazza. la mia domanda, quello che mi viene in mente è ce la faremo? Nel senso il linguaggio scientifico, la cultura nazionale, la cultura scientifica ce la farà a prevalere? C'è un... qualcosa di consolatore? Prima dicevo ai ragazzi se avevano mai visto alla televisione questo o quello, la risposta media è ma noi la televisione non la guardiamo. Ma certo, ma certo, secondo me ce la faremo anche per questo. Io ho molta fiducia nei giovani, insomma. E ascoltano magari i blog, ascoltano ecco, c'è il rischio che si chiudono in una bolla, questo è un rischio notevole. I ragazzi, alcuni di quali che sono qui vengono da classica hanno letto questo libro, in realtà non sono stati obbligati perché sono solo una ventina. Io ne ho 150 di studenti quindi sono pochi. Vediamo se qualcuno di voi vuole rompere il ghiaccio e chiedere qualcosa. Io, la mia domanda è solo ce la faremo. Sì, secondo me ce la faremo. È un processo lungo e ho abbastanza fiducia nelle nuove generazioni. Li vedo, poi insegno. Non hanno preparato domande quindi improvviso, no? Non è obbligatorio comunque. Non è obbligatorio. Qualcuno di voi vuole dire qualcosa? Sono queste due file qua, tutti qui giù. Non vogliamo, non obblighiamo. Qualcuno se la sente? Non se la sente. Non se la sente. Ma avrebbero qualcosa da chiedere? Questo lo so. Ma succede sempre così. ragazzi, pensate che alla domanda che ha fatto Paolo, anzi Paolo, scusate, il vostro professor Paolo Vitale. Anche il mio professore. Sì, ma a parte questo. Mio padre rispondeva sempre in un modo spiazzante. Se non ce la faremo, ce la faròmolo. Quindi ragazzi, potete domandare quello che volete. Dopo questa domanda e soprattutto questa risposta avete campo libero. e se non volete fare domande ditemi, voi per esempio, chi di voi ha Facebook? Nessuno. Io sono andato, io ho iniziato, ho aperto il mio canale su YouTube e poi su Instagram e poi sono andato su TikTok perché mio figlio all'epoca faceva liceo, aveva appunto 15 anni e mi dice papà ma tu, io avevo solo la pagina Facebook e il blog e la rivista che non leggeva, insomma, di sicuro i ragazzi e mi diceva papà ma guarda se tu fra dieci anni vuoi ancora scrivere libri, fare il divulgatore, cioè tu devi andare a raggiungere i ragazzi ma noi non siamo su Facebook perché Facebook è per vecchi. Me l'ha detto nel 2016 e io ho detto ma c'è ragione, infatti lì ho aperto ed è il motivo per cui appunto dall'ultimo anno ho aperto anche un profilo TikTok perché appunto so che appunto chiaro pian piano adesso da Facebook stanno passando da Instagram perché le tasse stanno alzando perché a me piace raggiungere loro l'ha fatto anche Berlusconi insomma sì diciamo con risultati non proprio TikTok queste cose non sono state proprio diciamo perché a me piace raggiungere i ragazzi io adoro insegnare appunto l'università quelli del primo anno anche perché non hanno le idee cristallizzate sono curiosi sono anche in grado di cambiare idea se gli si spiegano le cose cosa che invece vedo sempre più difficile man mano che uno va in là con l'età per cui io io sono fiducioso per quello quindi va bene se siete su TikTok leggete qualche libro ogni tanto insomma no perché l'approfondimento cioè purtroppo non è una roba da barbolo ma che l'approfondimento cioè non c'è il video anche di dieci minuti non può sostituire la profondità che uno può raggiungere leggendo delle cose lo diciamo non avrà molto successo questa idea è la generazione che ha letto di più da che esiste l'umanità leggono leggono scrivono leggono scrivono leggono scrivono ma la mia impressione è che leggono soprattutto cose corte e scrivono tantissimo io alla loro l'età mica scrivevo tanto così però scrivevo poco cose lunghe e invece scrivono in continuazione cose corte tanti ragazzi che mi scrivono e sono molto orgoglioso che mi dicono ho iniziato io non ti conoscevo non la conoscevo no perché poi chiaramente perché io quando sono ho aperto il profilo su youtube nessuno di quelli leggeva le scienze e non era su facebook io ero un perfetto sconosciuto e la stessa cosa è successa quando sono arrivato su tiktok e quindi dopo un po' mi dicono ah ma è interessante e mi scrivono ho comprato per la prima sono andato in libreria ho comprato un tuo libro e l'ho letto poi non so in quanto tempo però l'ho letto quindi questa idea che i ragazzi i giovani non leggano libri non è vera altrimenti non riuscirei a vendere perché poi io non vado in televisione non mi chiamo Angela per cui sui giornali è difficile che mi chiamino perché insomma per il Corriere sono quello che ha scritto per Repubblica su Repubblica non posso scrivere perché di certi temi parla solo Petrini per di fatto io no perché è così non è una battuta se ci fate caso per cui io appunto il successo dei miei libri è dovuto ai giovani non sono tutti giovanissimi ma che mi seguono sui social quindi io vedo che effettivamente i libri li comprano bisogna raggiungere tra social e carta stampata ma beh su TikTok c'è il fenomeno dei booktuber che è enorme insomma quindi secondo me non è vero che non leggono bisogna stimolarli un po' poi è vero perché magari le robe lunghe un po' bene allora se non c'è nessuno che vuole intervenire o qualcuno forse c'è sì mi sembra dagli occhi vai alzati alzati Luca va va prova ok volevo chiederle solamente il tema riguardo diciamo la divulgazione scientifica in generale perché io mi rendo io a me personalmente piace molto la fisica e io mi sono reso conto ad esempio che c'è un immenso abisso tra ciò che la fisica è davvero e ciò che viene diciamo come viene venduta dalla divulgazione quindi mi sono reso conto che essere allo stesso tempo un grande scienziato un grande divulgatore non è facile perché appunto volevo chiederle come fa come fa lei a sintetizzare l'enorme quantità di informazioni che uno scienziato mediamente ha e ridurle a una quantità che è adatta al grande pubblico io potrei citare inutilmente perché sicuramente lo conosce anche lei certe atrocità che vengono scritte per quanto riguarda ad esempio l'indeterminazione o altri concetti che vengono vendute come cose magiche magari in realtà sono cose anche abbastanza banali allora negli ultimi anni la divulgazione scientifica è diventata anche un mestiere perché poi appunto c'è spazio per tutti e chiaramente c'è uno spettro insomma dalle cose di bassa qualità alle cose iper sofisticate e quindi diciamo ognuno trova un po' il suo la sua nicchia la sua bolla che magari può essere anche grande hai ragionissimo soprattutto nel capo della fisica c'è chi ti vende l'equazione dell'amore no? l'equazione di dirac e poi invece c'è dall'altra parte c'è quello che ti fa invece l'attività generale non c'è una formula io per esempio cerco di semplificare il più possibile il linguaggio ma mai i concetti per esempio quando faccio i video quando faccio le storie anche quando sembrano così improvvisate in realtà cioè ci penso prima e io cerco di focalizzarmi su un concetto base alla volta perché altrimenti viene fuori una roba con troppa carne al fuoco e alla fine uno si perde quindi se c'è un tema che devo sviluppare in più volte ogni volta un concetto diverso cioè un aspetto diverso però nel mio caso ho visto che funziona quando mi sono occupato degli OGM o di tante altre cose quindi un concetto alla volta e io proprio per arrivare a più non a tutti a tutti non è possibile perché sono troppo diverse le persone però diciamo arrivare a tante persone la prima cosa che io faccio è quella di semplificare il linguaggio anche a costo di vedere qualche naso arricciato dei miei colleghi anche professionisti docenti colleghi così perché il linguaggio ancora una volta è la cosa più diciamo che fa da barriera allora il punto il mio punto di vista è che devono arrivare i concetti il senso delle cose poi se uno non usa perché non siamo in un'aula il linguaggio perfetto chi se ne frega però se io introduco troppi termini tecnici perché si fa così creo delle barriere inutilmente poi dopo un po' uno non mi segue faccio un esempio proprio stupido ma per far capire quando io spesso parlando facendo esempi sulla cucina e così via parlando del ghiaccio tante volte mi capita di parlare io quando tutte le volte che parlo del ghiaccio sui social sui video io dico che il ghiaccio si scioglie non dico mai che è sbagliato dal punto di vista termodinamico il ghiaccio fonde è un passaggio di fase in cui passa dal solito lì si fonde si scioglie il sale nell'acqua però nel linguaggio comune la neve si scioglie i poeti hanno scritto le poesie le nevi perenni si scioglie cioè se io utilizzo fondere che è tecnicamente giusto ma tanto tutti hanno capito il concetto che passa dallo stato solido allo stato liquido magari non sembra però introduco un qualche cosa che stona per una persona che non ha un linguaggio tecnico della fisica della termodinamica e poi al secondo al terzo alla quarta parola che gli suona un po' strana tutto il discorso gli sembra un po' un po' troppo tecnico e mi lascia perdere per cui io tutte le volte lo dico poi c'è sempre qualcuno eh ma hai detto fonde non hai detto scioglie dovevi dire fonde ma lo so io insedio termodinamica cioè lo so questa roba lo so ma è voluto questo è un esempio stupido ma ce ne sono tanti altri cioè quando ci si fissa troppo sui termini e non sui concetti che devono passare durante la divulgazione ripeto non a lezione non è didattica la divulgazione non è didattica è un'altra cosa bisogna focalizzarsi sui concetti che devono passare poi a volte la qualità è veramente bassa perché vabbè uno vuole cercare di di tirare in balo delle robe appunto come hai detto te che non hanno senso però c'è spazio per tutti poi ognuno io faccio così mi trovo bene e chi mi segue probabilmente altrimenti non mi seguirebbe c'è spazio per tutti c'è spazio anche per un'altra domanda c'è un'altra domanda dietro giusto? infatti io volevo chiedere siccome io volevo studiare chimica bravo 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 un applauso all'università bravo vabbè cioè siccome io volevo fare all'università chimica o comunque qualcosa relativo alla chimica perché uno nel mondo moderno dovrebbe studiare chimica cioè cosa c'è di bello nella chimica da studiare? allora cioè lui vuole ma vuole essere anche convinto ti posso dare due risposte una risposta pragmatica e una risposta invece diciamo più alta così iniziamo da quella più alta è il fatto che noi banalmente tutto quello che ci circonda è fatto di atomi e molecole tutto perché mi appunto io ho iniziato a avere successo soprattutto parlando di cose che si cucinano che si mangiano perché quando noi la cucina è un laboratorio chimico poi ai cuochi non piace che gli si dica che quando cucinano fanno delle reazioni chimiche che stanno avvenendo ma è così ed è così ed è il motivo per cui sapendo cosa succede dal punto di vista chimico le cose puoi cucinare meglio puoi fare delle cose che i cuochi non si immaginavano è stato un chimico a inventare un mio collega chimico fisico francese a inventare negli anni 90 una mousse fatta con l'acqua e il cioccolato cosa che i pasticceri ritenevano impossibile ci hanno fatto pure dei film come l'acqua col cioccolato e invece lui ragionando dal punto di vista scientifico ha fatto questa mousse viene chiamata la mousse la mousse vegana a volte se cercate cioccolato chantilly faccio vedere come si fa cioccolato fondente e acqua viene una mousse fantastica quindi il fatto stamattina ho fatto lezione ai miei studenti è iniziato il semestre e io quello che ho detto loro è che quando finiranno il corso di laurea in chimica vedranno il mondo in una maniera diversa perché nel momento in cui tu vedi il mondo microscopico vedi le molecole conosci come si trasforma la materia ti assicuro che ti fa vedere le cose in una maniera molto diversa e quindi tra l'altro eviti anche di cadere in tutte queste serie di trappole che scrivo io ma avrebbe potuto scriverle qualsiasi altro chimico la parte pratica se vogliamo è che oltre a apriti gli occhi sono un po' male però appunto ti fa vedere la realtà per com'è perché tutti noi siamo circondati da sostanze chimiche da molecole che reagiscono e così via la parte se vogliamo più pratica è che dopo il periodo di crescita enorme dello sviluppo della chimica come disciplina e della chimica come industria quindi tutto l'ottocento e fino a metà del novecento è stato il motore dell'industria della crescita economica del mondo occidentale la chimica sostanzialmente lo sviluppo di farmaci dei coloranti le plastiche eccetera eccetera adesso il chimico chi si laurea in chimica raramente solo una piccola parte va a lavorare in un'industria chimica propriamente detta perché ormai la chimica è entrata come diciamo scienza di servizio in tutta una serie di altre discipline e altre aziende per cui molti dei laureati che sono anche i miei laureati sono andati a lavorare in aziende farmaceutiche in aziende alimentari in aziende cosmetiche la cosmetica è tutta chimica non sono le influencer che fanno vedere la cremina c'è un sacco di chimici che ci ragionano dietro nell'industria elettronica ho tante persone che sono andate a fare anche cose particolari c'è chi lavora in case elettrici perché spesso hanno bisogno di persone tecniche che capiscono che arriva dei manoscritti dei libri e devono decidere se pubblicarli o no c'è chi non so lavora in uffici brevetti per farla supporto c'è chi è deciso di andare a insegnare cioè il chimico è molto versatile è molto più versatile di altre discipline per cui nessun chimico ha difficoltà a trovare lavoro almeno nel nord Italia poi è chiaro che se uno si laurea in sud Italia purtroppo c'è un problema però uno si può trasferire ma da noi ma non solo da noi perché siamo più bravi a Como ma anche a Milano ma in tanti altri posti spesso uno non fa tempo a laurearsi che ha già le offerte di lavoro insomma per cui credo che tu l'abbia convinto no non lo so però però è un consiglio che ti non do solo a te ma a tutti gli altri quando scegliete sceglierete cosa fare all'università va bene immaginare il lavoro che cosa farete ma in realtà nessuno vi può dire di quale lavoro verrà diciamo cercato da qui a cinque anni pensate cosa sta succedendo adesso con l'intelligenza artificiale cose via robe che fino un anno fa quasi nessuno aveva sentito parlare la roba importante è che uno si scelga le cose per cui ha passione perché se studiate le cose che vi appassionano riuscirete a laurearvi poi magari non farete quel mestiere lì particolare però riuscirete a laurearvi in tempo se invece fate delle cose che ho visto anche dei miei amici che non volevano andare a fare agraria o ingegneria però il genitore no devi fare questa roba e se studiate una cosa che non vi piace farete veramente tanta fatica per cui gli anni dell'università invece di essere anni belli gioiosi dove imparate un sacco di roba incontrate un sacco di persone diventano delle robe veramente pesanti quindi io il consiglio che do è prima la passione se ti piace la filologia romanza vai a fare quello perché comunque poi dopo beh allora credo che ti abbia convinto ma se non ti avesse convinto puoi venire da me a Scienze Politiche dove anche noi ci occupiamo di relazioni non tra particelle ma tra esseri umani per cui infatti la cosa è interessante peraltro io ho fatto ragioneria e insegno filosofia politica per cui si può fare veramente tutto nella vita detto ciò credo che ci siamo mangiati il tempo per il viaggio sull'Himalaya comunque posso dirlo in una battuta il sale rosa dell'Himalaya è sale ruggine è sale sporco è il rosa che non ha nessun tipo di proprietà taumaturgica come viene spacciata è semplicemente sale sporco perché è ossido di ferro quella che normalmente chiamiamo ruggine è solo che si sono inventati proprio negli anni 90 un tizio che poi lo importava non dall'Himalaya perché non arriva neanche dall'Himalaya arriva dal Pakistan da un'altra catena montuosa quindi non è neanche sale però sale dell'Himalaya lo vendi di più che non sale del Pakistan e quindi si è inventata questa cosa si è inventata da zero questa idea contiene 84 preziosi oligoelementi che avete sentito dire che poi si continua a dire io da chimico ogni volta che qualcuno me lo dice diciamo ma quali sono questi elementi perché se tu prendi la tavola periodica non ce ne ha tantissimi quindi 84 sono quasi tutti e quasi tutti sono tutti tossici o venenosi per cui noi abbiamo bisogno noi come esseri umani di al massimo una ventina di microelementi il ferro il magnesio il potassio i sodio quelli che sappiamo di solito ma tutti gli altri dobbiamo starcene ben lontani il cadmio il piombo il mercurio l'arsenico l'uranio il plutonio cioè queste robe qua quindi quando vi dicono contiene preziosi oligolementi chiedete quali no perché perché spesso non li volete e tra l'altro questo sale che è preso da questa miniera enorme di Kevra la seconda miniera più grande al mondo di sale con le analisi chimiche che ho riportato contiene anche delle impurità di cadmio di alluminio di mercurio probabilmente non in dosi che fanno male ma non c'è nessun motivo di assumere cadmio e mercurio o arsenico o boro inutilmente perché insomma alcune cose insomma è meglio di noi quindi in due parole insomma non compratelo grazie 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 Dario direi che nel salutare Dario potremmo dire che non solo il sale dell'Himalaya contiene questi preziosi elementi ma anche il suo volume contiene un sacco di preziosi elementi contro la disinformazione per cui acquistate il volume di Dario grazie davvero della bella serata che ci hai fatto passare e grazie ancora a voi grazie a voi adesso io io rimango qui per se qualcuno vuole chi vuole per il firma copie lo facciamo direttamente sul palco non so bene se dovete salire di lì e andare giù di là con ordine con ordine buena onda con ordine Grazie.